i migliori numeri 9 della storia ronaldo il fenomeno 1 van basten 2 battistuta 4 germüller 3 di stefano e numero 9 è assolutamente riduttivo or category di stefano numero 9 non era un numero 9 giocava con numero 9 ma non era un numero 9 però diventare cinque per si or category va bene cioè noi sono i primi quattro più il fuori categoria